Apatia, indifferenza, avidità, hanno condotto il nostro pianeta nel caos. La popolazione è versa in uno stato di perenne indifferenza. La Terra, un tempo uno dei pianeti più produttivi dell'intero universo, prosciugata. La classe dirigente, rappresentata dal primo ministro, intenta solo ad accimulare voti e a negare l'evidenza. Metterò fine a tutto questo. Non temete. Sto tornando. Grazie a tutti.